È lunedì notte di giovedì 5 maggio e come vedete Piazza delle Erbe è deserte, De Orre sono smontati e tutto chiuso. Ben diversa la situazione invece in via San Bernardo, dove questo venditore vendalese è rimasto aperto fino alle 23.30. Il numero del civico è il 20 rosso, come vedete ci sono persone che aspettano, è molto piccolo, non si entra in più di una persona. Quando il ragazzo esce, esce con una lattina in mano e con un bicchiere di plastica. Anche l'artigiano alimentare di fronte, come vedete, continua fino alla chiusura a vendere alcuni bottiglie di vetro. Questo invece è un locale di Piazza Perretto, quest'altro che è San Donato, entrambi aperti. Chi è rimasto aperto tutta la notte è il bar superbe di Piazza delle Erbe, tanto che a un certo punto sono arrivati a delle pattuglie dei carabinieri, presumibilmente per far notare ai proprietari che proprio non dovevano stare aperti. Come vedete il bar è in piena attività, ci sono persone di tavolini, anche l'interno è completamente pieno, tanto che qualcuno rimane fuori proprio in forse, perché non riesce ad entrare. Abbiamo consumato anche noi e questo è lo scontrino che ci hanno dato, come vedete non fiscale. Il giorno, il 5 di maggio, è l'ora, l'1.19.